Durante lunghi viaggi o nelle ore notturne può verificarsi un abbassamento del livello di attenzione. Da una velocità di 65 km orari, il sistema di rilevazione della stanchezza monitora il comportamento di chi si trova al volante. Il sistema esamina il comportamento al volante, l'utilizzo dei pedali e l'accelerazione laterale. Cosa fa il conducente? Se il sistema rileva che il guidatore non è sufficientemente concentrato sulla guida, attiva un duplice avviso visivo e acustico. Se il conducente non si ferma per una sosta entro i 15 minuti successivi, l'avviso viene ripetuto. È giunto il momento di fare una pausa. Quando si effettuano lunghi viaggi è bene fare le pause necessarie ad intervalli regolari. Il sistema di rilevazione della stanchezza del conducente, più sicurezza durante i lunghi viaggi. Golf. Das Auto.